Il Boombox CMP 562 USB di Trevi è uno stereo portatile con lettore CD ed MP3 per ascoltare tanta buona musica sia dentro che fuori casa. Leggero e compatto, possiede un pratico display LCD per una visione ottimale delle informazioni di riproduzione. Attraverso l'ingresso Auxin potrai collegare facilmente notebook, smartphone, iPad e altri dispositivi compatibili e da ascoltare la tua musica in tutta semplicità. Con la radio FM integrata o tramite l'ingresso per chiavetta USB potrai finalmente ascoltare la tua musica preferita ovunque vorrai. Il Boombox CMP 562 USB diventerà il tuo compagno ideale in camera o nei tuoi viaggi fuori porta. Non potrai più farne a meno! Grazie per la visione!